Un caro saluto a tutti gli appassionati di strumenti ottici da Piergiovanni Salimbeni. Nel video di questo fine settimana vorrei presentarvi brevemente due rifrattori astronomici che saranno oggetto di una comparativa un po' particolare. Si tratta di due telescopi molto apprezzati dagli appassionati di astronomia, l'Evostar 120-ED e l'Evostar 120-1000. Entrambi sono prodotti da Skywatcher e distribuiti in Italia da Auriga. Questi due rifrattori offrono delle prestazioni ottiche di alta qualità, ma con caratteristiche differenti che gli rendono adatti esigenze diverse. Il rifrattore Evostar 120-1000 è il più economico ed è acromatico e con filtro solare attualmente fino a esaurimento scorta in offerta a 455 euro IVA inclusa, mentre il rifrattore 120-ED con riduttore spianatore è in offerta a 1799 euro. Quindi, calcolatrice alla mano, l'obiettivo ED costa circa quattro volte in più. Lo Skywatcher 120-ED Evostar infatti è un rifrattore ED, quindi a bassa dispersione, con un obiettivo da 120 mm di diametro, ma il suo rapporto focale si presta bene anche all'osservazione del cielo profondo. Inoltre, la qualità dell'ottica è stata potenziata rispetto al più economico cromatico con un miglior trattamento antiriflesso che riduce al minimo i riflessi indesiderati e migliora quindi sia la trasmissione della luce che il contrasto. Inoltre, il telescopio, come potete vedere dai particolari, è equipaggiato con un focheggiatore Cryford a doppia velocità che permette di eseguire regolazioni precise senza effetti backlash, ossia di ritorno. Questo è fondamentale per ottenere una messa a fuoco precisa non solo nella fotografia, ma anche nell'osservazione ad alti ingrandimenti, magari se non avete voglia come me, ad esempio come oggi, di utilizzare dei supporti astronomici molto robusti. La compatibilità, inoltre con vari accessori Skywatcher di altre parti, lo rende comunque versatile e facile da integrare in setup astronomici quindi di diverso tipo. L'altro modello che vedete qui è un bifrattore che definirei entry level, l'Evostar 120-1000, infatti è un telescopio acromatico economico che ha una lunghezza focale di 1000 e un rapporto focale pari f8,3. Sebbene non sia, chiamiamolo un apocromatico, come l'Evostar 120-ED, dovrebbe fornire comunque delle immagini di discreta qualità. Questo telescopio, infatti, secondo me, è perfetto perché cerca un buon compromesso tra le prestazioni e il prezzo ed una scelta eccellente per chi desidera esplorare il cielo con una buona risoluzione senza un investimento troppo elevato. A volte dico che per guardare i pianeti è meglio un 120 acromatico che un piccolo 80 mm di alta qualità. Insomma, pare un prodotto un po' spartano ma robusto con una lunghezza focale che strizza meglio l'occhio alle osservazioni lunari e planetarie. Ora vi starete chiedendo perché ho chiesto da Auriga questi due rifrattori. Perché oggi vi vorrei parlare della mia esperienza lunare e planetaria con questi due strumenti, ma vorrei anche mostrarvi delle prestazioni pratiche che otterrò collegando un oculare Kowa TE11 VZ con un adattatore sempre progettato da Kowa per un iPhone. Quindi in questo caso cercherò di evidenziare le differenze tra due modelli nel mero uso diurno. Quindi presumo che dovreste comunque riuscire a comprendere le differenze che poi verifichereste in parte anche nell'osservazione astronomica, anche se poi nell'osservazione ad esempio di pianeti come Giove interviene molto l'esperienza. 120 acromatico. Mi scuso per i rumori di fondo ma sono in giardino perché oggi poi c'era troppo a turbolenza in montagna e quindi non ho voluto andare avanti con il test. Qui l'ambiente è un po' più confortevole. Cercherò di riprendere gli stessi dettagli con entrambi gli strumenti. Questo è il particolare di un traliccio. Così siamo al massimo degli ingrandimenti dell'oculare e adesso provo anche a zoomare. Prova con rifrattore 120 edi. Ci sarà una lieve differenza di luce perché comunque tra una ripresa e l'altra saranno passati 6-7 minuti. Guardate, provo a ingrandire nel punto in cui vedete che anche qua comunque non è un apocromatico. Salta fuori un filo di cromatismo residuo però non è elevato come un esempio quello visibile nel 120 acromatico. Sempre con il 120 acromatico. Come vedete comunque il rifrattore è nitido, nulla da dire. La tonalità di bianchi è abbastanza calda. Il problema è la messa a fuoco nel senso che mi aiuta un po' l'iPhone però come vedete induco molte vibrazioni con la messa a fuoco non demoltiplicata. Stesso particolare con il 120 edi. Ingrandiamo. Questo è l'ingrandimento massimo con lo zoom della cova. Adesso provo a aumentare un po' con lo zoom digitale dell'iPhone. Vedete che in questo caso c'è un po' di problematiche di messa a fuoco dell'iPhone. Vediamo di dare una ritoccatina. Ecco qua, guardate. Immagine in questo caso priva totalmente di aberrazione cromatica. Questa è una situazione che in fotografia si definisce comunque a basso contrasto perché c'è una uniformità dei colori però non c'è un netto come il bianco con il nero e tendenzialmente c'è anche molta luce laterale che va a abbassare il contrasto. Quindi vediamo adesso aumentando gli ingrandimenti cosa succede e provo a zoomare con lo zoom digitale. Calcolate che questi abiti rossi sono a circa 3 chilometri dalla mia postazione. Spero di aver ripreso la stessa scena, se così non fosse scusatemi, stessa zona a circa 3 chilometri di distanza. Adesso questo è il massimo ingrandimento fornito dall'oculare zoom. Adesso proviamo a ingrandire con lo zoom digitale. Vedete che comunque nelle situazioni diciamo di stress dell'ottica il doppietto di risulta vincente. 120 a cromatico stesso dettaglio. Aumentiamo l'ingrandimento dell'oculare zoom. Provo a focheggiare un pochino, scusate per le vibrazioni. Adesso ingrandisco con lo zoom digitale. Ripresa con 120 ed i. Penso che il vicino in casa mi chiederà i diritti di immagine. Adesso ingrandiamo con lo zoom. Vedete che comunque con la demoltiplicata si riesce a mettere fuoco molto bene. Adesso questo è lo zoom digitale dell'iPhone. Dopo aver visto con i vostri occhi le differenze nell'uso diurno, che giudico sempre un ottimo test per qualsiasi strumento ottico, vorrei prima parlarvi brevemente delle mie impressioni pratiche dopo qualche ore di osservazione astronomica trascorsa con entrambi. Riguardo la luna, l'Evostar 120 ed i. ha prodotto un'immagine sorprendentemente nitida e dettagliata. La riduzione delle aberrazioni cromatiche, tipica degli strumenti apocromatici con vetro ed i, ha permesso di osservare i dettagli lunari con un contrasto eccellente, senza loni o frange colorate. Al contrario, l'Evostar 120 1000, pur mantenendo un'immagine di buona qualità, ha sofferto di una leggera aberrazione cromatica, con una sfocatura e una denominante anche più fredda, che si è fatta più evidente ai bordi della luna. Avrei voluto farvi vedere delle prese lunari, ma purtroppo non era ancora arrivato l'adattatore che stavo aspettando. L'inserimento della Barlow 2x ha fatto emergere ancora di più queste differenze, mentre l'Evostar 120 ed i. ha mantenuto una qualità costante, l'Evostar 120 1000 ha mostrato maggiori difficoltà nel gestire gli ingrandimenti alti, quindi ha avuto una classica leggera perdita di definizione e contrasto sopra i 160-180x. In realtà, osservando Saturno e Marte con filtri specifici, non ho notato differenze apprezzabili per quanto concerne i dettagli visti, non però sulla loro reale colorazione, mentre su Giove ho preferito il miglior microcontrasto del 120 ed i, che con ingrandimenti alquanto simili mi ha fatto vedere dei dettagli nella zona equatoriale un po' difficili da percepire nell'acromatico, che ha dato il meglio di sé con un filtro verde che però snaturava la visione. In conclusione, la differenza tra un telescopio acromatico e un telescopio dotato di doppietto ed i, è molto evidente quando si spingono le ottiche a lavorare in ingrandimenti elevati. L'Evostar 120 ed i. ha dimostrato di essere superiore in termini di contrasto, definizione e resa cromatica, mentre l'Evostar 120 1000 pur offrendo buone prestazioni è risultato meno preciso, diciamo così, nelle situazioni di alta luminosità e ingrandimento. Se cercate, secondo me, un telescopio che possa offrire una qualità ottica ottimale, l'Evostar 120 ed i è attualmente senza dubbio la scelta migliore, mentre per chi ha le prime armi o desidera una soluzione più economica, ma comunque funzionale, consiglierei di acquistare il 120 1000. Altre due condizioni pratiche sul campo che ho verificato è che, nell'osservazione pratica, grazie alla presenza della demoltiplica, in realtà il 120 ed i, anche se pesa di più, è possibile utilizzarlo con dei supporti più leggeri, nel senso che il sistema di focheggiatura molto classico della cromatico comportava qualche vibrazione, sia sull'alta zimutale che sulla VIX NGP. Io per oggi termino qui. Ringrazio Valerio Zuffi e Matteo Bella di Auriga per avere fornito gli esemplari oggetto di questo test per avermi lasciato citare le mie impressioni personali, come sempre. Vi aspetto su questo canale, ci vediamo con il prossimo video e, mi raccomando, ragazzi, come sempre il 90% di voi vede i video ma non si iscrive, quindi se volete iscrivervi per rimanere anche sempre aggiornati per consentire a me di produrre nuovi contenuti, potete farlo utilizzando il pulsante iscrizione e attivando la campanella per le notifiche. Buone osservazioni a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Ciao ragazzi!